Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto di iniziare una relazione amorosa sotto la stretta sorveglianza dell'occhio curioso del grande fratello Vip, la loro, più che una scelta, sembra essere stata un inevitabile destino, che ha condotto a cercarsi e volersi in ogni istante della giornata. Cecilia, durante un momento di confidenza con le altre ragazze, si abbandona a confidenze che la portano ad ammettere che la convivenza nella casa con Ignazio non è sempre facile. Il fatto che sappiano di essere ripresi da telecamere 24 ore al giorno, non li rende liberi di dirsi, di comportarsi come vorrebbero. Cecilia pensa che la frequentazione tra di loro sia obbligata, stiano insieme perché convivono per forza sotto lo stesso tetto, e dichiara che all'inizio di una relazione sarebbe bello viversi in libertà, non in questo modo che definisce forzato e strano, perché non dico le cose che vorrei dire, non faccio le cose che vorrei fare. Queste affermazioni potrebbero far pensare che la ragazza cominci ad avere dei dubbi o che la situazione si faccia troppo pesante per lei, anche se alla fine, si riprende e conferma il suo interesse, spiegando meglio i suoi timori. Anche il fatto che uscendo dalla casa non potranno più stare insieme tutto il giorno, secondo Cecilia creerà degli scompensi quando ricominceranno a vivere le proprie vite, il proprio lavoro sarà tutto molto strano e surreale. Il discorso verte anche sul fratello di Cecilia, Jeremias, che durante la diretta di lunedì scorso ha dovuto lasciare il gioco, e la modella argentina ammette di sentire la sua mancanza, ma anche di essere molto più serena e tranquilla. Infatti, risentiva molto degli umori del fratello, delle sue altalenanti emozioni, e ora che è uscito, il suo animo e in pace mi manca ma sono più serena. Cecilia senza altro, avrà sentito anche il peso del giudizio di Jeremias, probabilmente conoscendolo molto bene, avrà intuito che il ragazzo non digeriva del tutto la sua relazione con Ignazio Moser, infatti le dichiarazioni che Rodriguez ha rilasciato una volta fuori dalla casa, confermano questa sensazione di Cecilia.